Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Nato Faioli e siamo a uno speciale che celebra Halloween con un viaggio nel lato più oscuro di Aspinotel e de Loa Boss. Sappiamo che Aspinotel e Loa Boss nonostante le atmosfere decisamente oscure e i personaggi inquietanti e simpatici oggi ci addentreremo proprio in quei momenti che hanno saputo sconvolgere e far paura ai fan rivelando il lato più tenebroso dei personaggi e delle loro storie. In questa top 5 esploreremo scene che vanno ben oltre i semplici shock e parliamo di sequenze che ci hanno messo paura. Quindi questa è la top 5 delle scene più inquietanti di Aspinotel e Loa Boss. Numero 5 La scena di Valentino ed Angel Dust dell'episodio 4 della prima stagione di Aspinotel. Ovviamente sono stato costretto nei commenti a mettere questa scena nonostante l'abbia messa a sta scena un centinaio di volte. Questa scena tra Valentino ed Angel Dust in Aspinotel è tra le più inquietanti e disturbanti della serie ed è facile capire il perché. Il rapporto tra Valentino e Angel Dust non è solo quello di un capo e un dipendente ma è carico di un controllo assoluto e spiegato che Valentino esercita su Angel Dust. La scena si apre con Angel che si allontana dalla Aspinotel per tirare un film porno essendo obbligato per contratto a lavorare per il suo prattore Valentino. Quando Charlie interviene interoppendo le riprese nella speranza di ottenere per Angel un po' di sollievo la situazione si fa ancora più tesa e carica di pericolo. Valentino reagisce con violenza colpendo Angel visticamente e ricordargli che attraverso il contratto possiede la sua anima. Angel per proteggere Charlie dalla furia di Valentino le urla di andarsene con aggressività mettendo in scena una falsa obbedienza che nasconde in realtà un profondo senso di cura per lei. La scena termina con Angel disperato che continua le riprese e soggetto agli abusi. Vorrei mettere Poison ma per sicurezza no. Numero 4 Che cosa hai detto dell'episodio 5 della prima stagione di Aspinotel La scena che cosa hai detto è inquietante mentre Mim si racconta il passato di Alastor ai protagonisti rivelando dettagli che forse i fan di Aspinotel già conoscono il vero momento di suspense arriva quando Ask incuriosito chiede ad Alastor cosa sia successo nei sette anni in cui è scomparso. La reazione di Alastor è glaciale e tagliente. Invece di rispondere si beffa di Ask e cerca di schivare la domanda con la sua solita superiorità ma Ask in modo inaspettato gli rifaccia che anche la sua anima è vincolata a un contratto insinuando che Alastor nonostante il potere sia comunque sotto il controllo di qualcun altro. Il demone della radio perde la sua pazienza un'altra volta e minaccia di uccidere Ask avvertendolo di non mancargli più di rispetto. Il cambiamento improvviso di tono di Alastor di solito calmo e alcune volte divertente lo rende per un attimo quasi spaventoso. Ah giusto quasi dimenticavo è vero che lui si gira a 360 gradi all'inizio e che con il filtro della radio lo rende abbastanza inquietante. Numero 3 L'infanzia di Moxie dell'episodio 3 della seconda stagione di Eloha Boss Dico subito una cosa ci sarà un video dove parleremo di tutti i brutti passati che hanno avuto i nostri personaggi preferiti nell'Elvers però la scena sull'infanzia di Moxie è uno dei momenti più cupi e disturbanti dell'Oha Boss poiché scava nel passato tragico e traumatico del nostro fan favorite. Rivelando l'influenza negativa e violenta di suo padre Crimson dato che è un mafioso la scena a cena tra Moxie e Crimson è solo l'inizio della tensione Crimson non solo minaccia Moxie ma lo costringe a confrontarsi con ricordi traumatici e a rivivere la pressione di un passato da cui ha cercato di fuggire viene mostrato come Crimson sia diventato il capo di un'importante organizzazione criminale un potere ottenuto con violenza o senza scruboli oppure in modo casuale Crimson aveva anche avuto una moglie originaria dell'anello dell'ira piccola curiosità e insieme avevano avuto un solo figlio Moxie tuttavia la relazione di Crimson con la sua famiglia era molto brutta da una parte lui era insoddisfatto di Moxie vedendo con disprezzo e rifiuto di suo figlio per il mondo della mafia a seguire le orme criminali del padre dall'altra la madre di Moxie che tentava disperatamente di tenerlo lontano da quella vita mafiosa uno dei momenti più inquietanti è la scena della barca dove Crimson constringe Moxie ad affogare un demone innocente il giovane impotente e terrorizzato si trova costretto a partecipare a un atto brutale e in questo momento affiora uno degli elementi più tragici della sua storia la scena si chiude con un dettaglio che gela il sangue una scarpa che galleggia sull'acqua lasciando intuire che sia appartenuta alla madre di Moxie questo dettaglio implicito e aggosciante suggerisce che la madre sia stata affogata probabilmente per mano dello stesso Crimson come punizione per i suoi tentativi di proteggere Moxie dalla crudeltà del padre e qui voglio lasciare in descrizione questa cosa a tutte le donne che stanno vedendo questo video se state subendo violenze o stalking sappiate che non siete sole e che esiste un sopporto a cui potete rivolgervi il numero 1522 è gratuito attivo 24 ore su 24 e vi metterà in contatto con operatrice specializzate pronte ad ascoltarvi offrirvi aiuto e consigli in modo riservato e sicuro potete chattare o chiamare e vi lascio il sito www.1522.eo in descrizione detto questo passiamo alla prossima posizione numero 2 Striker e Stolas dopo il fallimento al festival della luna del raccolto successo nel quinto episodio della prima stagione Striker non si arrende e torna determinato a portare a termine la sua missione questa volta riesce a rapire Stolas e lo porta nella sua tana una volta immobilizzato Stolas si trova faccia a faccia con Striker che approfitta della situazione per intimidire e minacciare il principe Ars Gosha la scena diventa particolarmente inquietante quando Striker senza alcuna pietà lo pugnala alla spalla provocandogli un dolore lancinante il suono di sottofondo simile a quello di un film horror amplifica l'angoscia del momento facendo percepire allo spettatore la sofferenza e il terrore di Stolas e ricordiamo che il coltello che sta usando è un'arma angelica ed è di Carmilla Carmine ma per fortuna o per sfortuna dipende dai punti di vista Stolas viene salvato sì da Moxie e Millie ma anche da Andre Alphus e sappiamo tutti per il quale motivo numero 1 l'evocazione di Stolas e parlando di Stolas l'episodio 6 della prima stagione True Seekers ha avuto una delle scene più inquietanti di tutto è l'Ovapos o dell'Elvers in generale dopo una feroce battaglia contro gli agenti umani i membri dell'IMP si ritrovano in difficoltà i protagonisti sembrano ormai senza via d'uscita ma è in questo momento di ispirazione che Stolas interviene in modo spettacolare e terrificante Stolas possiede l'agente femmina costringendolo con una forza invisibile a disegnare il suo simbolo il pentacolo utilizzando il sangue questo rituale di evocazione cruento e inquietante trasforma la scena in un incubo demoniaco il sangue che scorre e le azioni forzate degli agenti catturano il lato più oscuro e minaccioso del potere di Stolas una volta evocato la presenza di Stolas domina completamente la scena rivelando un lato del principe Arsgosia che raramente si vede un'entità sovranaturale spietata e pontettissima e dall'altro Stolas entra cioè dall'altro Stolas è dentro la gente e fuoriesce da tipo un jest buster quindi qual è secondo voi la scena più inquietante dell'Elvers fatemelo sapere qua sotto se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale commentate lasciate like seguitemi sui social e abbonatevi nel mio canale quindi questo è tutto e buon halloween a tutti ciao ciao